Siamo qui nel rifugio che Pedro Camposcosta sta costruendo a Humus Park nel parco del seminario a Pordenone. Pedro Camposcosta, architetto molto noto a livello internazionale, è la prima volta che ti cimenti con la Land Art. Che cosa ti ha spinto ad accettare? No, effettivamente la cosa che mi ha spinto è anche perché io lavoro molto con il contesto, con la natura, il mio lavoro è molto attento a queste questioni e nel finale secondo me sto facendo un'altra volta la stessa cosa, architettura. E come sta procedendo questa nuova sfida? È difficile anche perché è molto veloce il tempo, una settimana, dobbiamo scegliere il posto, tagliare le cose, dunque è un'architettura di tutti i processi molto veloci e ovviamente siamo riusciti, siamo a metà e vediamo come finirà. Che cosa pensi che ti porterai a casa e nella tua vita professionale da questa esperienza? No, ho imparato tantissimo, anche perché ho invitato un artista che si chiama Rossano Cacciale di Parma e lui è molto bravo, abbiamo imparato un casino di molte tecniche ma anche come fare le cose nelle poste. Qual è l'idea che sta alla base di questo progetto? L'idea è fare un rifugio, un rifugio nella natura e quello è un elemento molto molto alto, abbiamo messo questi tronchi dove le persone possono stare. La cosa più importante per me, anche in architettura, per questo dico che non è molto diverso da quello che faccio io, è che le persone riescono a stare e si stanno bene, sono qua, si siedono e riposano, guardano la natura e questo volume molto alto fa anche sentire questa, anche con la luce. Dunque vogliamo vedere, speriamo nel finale, quando le persone vengono qua, di essere tutto finito, che sia una piccola cappella, se vuoi, un piccolo rifugio spirituale per stare qua a guardare e a stare tranquilli. Quindi c'è anche un elemento di spiritualità, se vogliamo, di sacralità? Sì, l'architettura ha sempre questo elemento, non è che noi vogliamo, spiritualità sempre ovviamente, però non è che l'oggettivo principale è questo, però quando tu costruisci questo spazio esiste questo filtro con la natura che diventa abbastanza spirituale. Grazie a tutti.